Sono stati primi ad inaugurare la stagione, una preparazione cominciata quando le altre società stavano ancora pensando a come programmare il futuro. La folgore del Finocuri Pescara parte in pole position in questo inizio di campionato e strappa tutti i punti a disposizione nelle prime tre gare. A punteggio pieno, insieme alle due grandi favorite dell'anno, la squadra di Bonati è chiamata al primo test della verità. Una prova del 9 contro quel Teramo già affrontato in Coppa, ma questa volta a far da cornice all'intrigante sfida sarà il ritrovato Stadio Bonolis. Sì, al momento ci dobbiamo godere un po' la partita di domenica, siamo contenti, stiamo facendo bene, speriamo dare continuità a quello che abbiamo fatto domenica. Quindi prepariamo la settimana del migliore dei modi, così affrontiamo una squadra forte che sta prima in classifica come noi, sarà una partita bellissima. Abbiamo giocato in Coppa, sappiamo che è una squadra forte, però noi stiamo facendo il nostro e speriamo continuare così. Sì, sarà una gara difficile sicuramente, il ministro ha parlato sicuramente per preparare nel migliore dei modi, quindi penso che spero che come abbiamo fatto queste tre settimane sicuramente andrà bene. In Coppa Italia avete già affrontato il Teramo, quindi magari avete già un'idea di quello che sarà poi l'incontro di domenica? Sì, diciamo che la squadra sia sempre la stessa, quindi noi sappiamo chi troveremo davanti, sicuramente avremo davanti dei giocatori più esperti rispetto alla nostra rosa, ma siamo consapevoli che sarà una grande partita.